Il primo carico di medicinali è partito per l'Ucraina ieri pomeriggio da Piazza Kennedy. Alla raccolta coordinata dalla CSV Irpinia Asanio con sede d'Avellino hanno contribuito associazioni e farmacie. La catena di solidarietà è stata avviata dopo la richiesta di aiuto da parte dell'associazione Ucraini Irpini preseduta da Oksana Biblif. Subito dopo l'SOS l'Irpinia è scesa in campo in aiuto delle vittime della guerra. In poche ore è stato quindi possibile caricare il primo mezzo di medicinali partito in soccorso del popolo ucraino? Allora sì c'è stata una mobilitazione molto forte da parte della provincia di Avellino tutta e anche del Beneventano e le associazioni ma anche i libri cittadini, le farmacie tutti hanno risposto all'appello lanciato da alcune organizzazioni di volontariato cui il CSV ha dato un supporto e un coordinamento affinché già nella giornata di ieri il primo carico è potuto partire alla volta dell'Ucraina. Che tipo di medicinale avete impiato in Ucraina? Antinfiammatori, antibiotici anche per bambini, bende, garze, sistemi per le flebbo, un po' tutto quello che insomma ci è stato richiesto anche per far fronte alle necessità del luogo perché grazie al riferimento che abbiamo avuto con la presidente dell'associazione Ucraini Irpini, Oksana, che è in Ucraina in questo momento, siamo riusciti a far fronte alle richieste che ci prevenivano direttamente dal luogo. Chi ha partecipato a questa iniziativa? In particolare l'iniziativa è stata lanciata dalla Misericordia di Sant'Angelo dei Lombardi cui poi si sono aggregate le pubbliche assistenze, le altre misericordie della provincia ma anche tantissimi privati cittadini, associazioni, farmacie singoli e privati che hanno voluto contribuire alla raccolta. Una raccolta che continua, va avanti questa iniziativa? Assolutamente sì, prosegue, c'è speranza che ogni 15 giorni riusciremo a far partire un carico, ovviamente tutto dipende anche dall'evoluzione del conflitto lì in Ucraina perché chiaramente le frontiere devono permettere l'accesso del carico. E chi volesse contribuire? Assolutamente, può far riferimento alle singole associazioni del luogo oppure anche qui direttamente al CSV che siamo disponibili ad accogliere chi vuole donare il proprio contributo. Volevo aggiungere una nota positiva da parte di due associazioni che sempre con il nostro coordinamento hanno speranza di riuscire a realizzare questo sogno che Oksana ci ha chiesto, ovvero l'invio di due ambulanze stesso in Ucraina. Abbiamo avuto già la disponibilità sia da parte della misericordia di Sant'Angelo di Lombardi sia da parte della misericordia di Prata di Principato Ultra. Quindi nei prossimi giorni ci stiamo attivando anche già per poter rinviare queste due ambulanze in aiuto alla popolazione.